Suo nonno, Rosalbino Grandinetti, partì oltre 80 anni fa da conflenti per andare a cercare fortuna negli Stati Uniti, dove sperava in particolare di riuscire a guadagnare una dote per poter sposare la figlia. Da lì non è mai tornato, pur senza dimenticare le sue origini, e la sua famiglia ha avuto molto di più che una semplice dote. Oggi il nipote, Russell Grandinetti, è il numero due del colosso delle editorie e del commercio online Amazon. Russell, il vicepresidente dell'area Kindle, oggi è tornata alla mezzia terme, dove è stato accolto da Francesco Grandinetti, ideatore dell'iniziativa, Giovanni Paola, sindaco di conflenti, in cui si recherà nel pomeriggio per ricevere la cittadinanza onoraria e il presidente del Consiglio regionale Scalzo. Umile e positivo l'atteggiamento di Grandinetti, che ha spiegato come sia stato suo nonno ad insegnare a suo padre e poi a lui l'amore per il lavoro duro, ma anche per la creatività, oltre a quello per la famiglia. Dal presidente Scalzo, l'esponente di Amazon ha ricevuto una targa a nome del Consiglio regionale e la proposta di far fare uno stagio ai migliori tre cervelli calabresi, proposta che Russell Grandinetti ha accolto con entusiasmo. Ho imparato dal mio nonno, lavoro duro, è un valore calabrese, ho imparato qua e così lo so è possibile per gli altri.